Questa è la storia di una gruppi dell'undicesimo secolo che trovò il velluto in un'officina per cavalli. Se ne innamorò e ne fece fare un vestito splendido da una sarta in tour in Egitto. Una PR la vide ed esclamò Glamour e tutti pensarono fosse una parolaccia. Le due diventarono amiche e partirono per andare a Venezia alla prima street parade in maschera, più tardi nota con il nome di Carnevale. L'icono vecchio in grigi, famoso re e vocalist. In Europa la donna ebbe successo e finì sulle riviste più in. Il tessuto raggiunse il suo vero apice all'ortando accusato da un genio del gusto che ne usò un touch per rivestire un orologio, che arrivò ai polsi di gente di pulso, uno dei quali alzando il suo calice disse Glamour e tutti finalmente capirono.